Come creare del sushi su Minecraft in 30 secondi! Prima però non scordarti di iscriverti per nuovissimi video! Ebbene, cominceremo facendo una ciambella di qualsiasi materiale. Scaveremo un buco al centro e ci aggiungeremo un calderone. Dopodiché mettiamo in riva un distributore pieno di supporti per armature. Lo attiviamo con la redstone e facciamo cadere il supporto per armature nel buco. Mettiamo sul supporto un teschio di scheletro e proprio sopra il teschio un pistone, che non guasta mai. Attacchiamo una botola di betulla al pistone e poi con la redstone schiacciamo tutto. Tiriamo via tutto quello che non serve e riattiviamo il distributore. Aggiungiamo sul supporto un elmo di cuoio colorato di nero e apriamo la botola con attenzione e poi la richiudiamo. Et voilà, ecco creato e il sushi su Minecraft!